L'attenzione su un'antenna a follo non si placa. È passato qualche mese ma come gruppo d'opposizione è tornata in piazza per cercare di trovare una soluzione a quello che potrebbe essere un problema. Ricordiamo che questa antenna verrebbe costruita a pochissimi passi dal parco comunale. Sì, noi sabato mattina abbiamo promosso una manifestazione davanti al sito dove era installata questa antenna alle ore 10. Siamo qui ovviamente per invitare tutta la comunità a partecipare a questa manifestazione. La manifestazione si sviluppa sostanzialmente su tre direttrici. La prima è per quanto riguarda l'aspetto logistico perché riteniamo che un'antenna di quelle dimensioni a 35-30 passi dal parco comunale sia inopportuna, quanto meno inopportuna. La seconda è legata a un aspetto più sanitario. Cioè almeno chiediamo che vengano installate delle centraline che in qualche maniera vadano a monitorare e registrare quelle che sono le emissioni continue perché almeno l'esposizione a rischio salute venga in qualche maniera garantita. Poi c'è un terzo elemento che riguarda l'aspetto più critico nei confronti dell'amministrazione in quanto a suo tempo, già a fine dell'inverno scorso, avevamo raccolto delle firme. La comunità si era mossa nell'andare a richiedere una collocazione diversa e l'atteggiamento di chiusura da parte dell'amministrazione è stato totale, nel senso che non sono state date risposte nemmeno sul piano istituzionale. I tre obiettivi fondamentalmente sono questi. Ricordiamo che il primo, quello della collocazione, è un obiettivo che è comune anche con la volontà dell'amministrazione. Perché a dire il vero anche l'amministrazione stessa si è spesa in un certo modo per far sì che questa antena lì non venisse posta. Noi vogliamo dare ancora più forza all'iniziativa dell'amministrazione in questa direzione e riaprire, se possibile, nei confronti del gestore, un'ulteriore discussione per far sì che questa antena venga posizionata in un'area non così infelice. Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale nei confronti delle modernità, del progresso, delle nuove vie d'accesso all'informatica stessa, alle trasmissioni. Il nostro è un problema che risguarda prevalentemente la collocazione. Grazie.